Mi chiamo Maria Cristina, ho 67 anni a giugno e ho deciso di venire dal dottor Gandolfi perché avevo delle tremende borse sotto gli occhi che mi creavano complesso. Io non ho conosciuto personalmente il dottor Gandolfi prima, è stato mio marito che visto che evidentemente lo stressavo con le borse sotto gli occhi ha deciso di interessarsi e ha preso appuntamento per me come regalo per il mio compleanno, ha preso appuntamento per questa operazione. Mi sono trovata subito bene, il posto è molto bello, accogliente, tutto il personale è gentilissimo e competente e non ho avuto problemi subito dopo l'operazione, vabbè è chiaro per alcuni giorni ho avuto un po' di gonfiore, però non ho avuto né dolori né niente e finalmente non ho più quelle antestetiche borse sotto gli occhi che appunto mi creavano problemi. Mi sento bene adesso sono soddisfatta del lavoro fatto dal dottor Gandolfi.